Ciao, benvenuti a questa guida sulle meccaniche di gioco di World of Tanks. Oggi parleremo della penetrazione. Iniziamo ad auspicare un semplice concetto geometrico, la normale. La normale è nient'altro che la linea perpendicolare in un certo punto di una figura geometrica. L'angolo di impatto di un proiettile va calcolato rispetto alla normale, non rispetto all'armatura. Perché ciò? Per un motivo molto semplice. Se abbiamo un'armatura curva, come calcoliamo l'angolo di impatto rispetto a questa armatura? È un problema geometrico non irrilevante che ci servirà più avanti per capire le meccaniche più complesse. Quando in World of Tanks spariamo un colpo, il generatore casuale di numeri, o RNG, genera un valore di penetrazione che oscilla dal 25% rispetto al valore nominale di penetrazione. Ovvero, se il mio cannone nominalmente buca 100 mm, i valori casuali di penetrazione oscilleranno tra 75 e 125. Nel gioco questi due valori possono essere visti per esempio mentre si caricano le munizioni, come vedete dall'immagine. Ora, è importante ricordarsi che l'armatura può essere messa ad un angolo. Maggiore l'angolo, maggiore sarà lo spessore effettivo di corazza che il proiettile deve effettivamente superare. Superati i 70 gradi rispetto alla normale di angolo di impatto, il proiettile, indipendentemente della sua penetrazione, che sia 50 o 350, rimbalzerà. Ci sono però tre importanti precisazioni da fare riguardo a questa regola. Primo, la regola dei 70 gradi vale soltanto per i proiettili AP e APCR. I proiettili HIT a carica cava rimbalzano solo oltre gli 85 gradi, mentre gli esplosivi HE o HASH esplodono a qualunque angolo. Secondo, la normalizzazione, ovvero l'aggiustamento dell'angolo dell'impatto. Se un proiettile AP colpisce un'armatura a qualunque angolo d'impatto, che ci serve a calcolare comunque l'armatura effettiva, quest'angolo diminuisce di 5 gradi. Quindi, se il nostro proiettile colpisce a 50 gradi, il calcolo dell'armatura effettiva in quel punto viene fatto come se il proiettile colpisse a 45, in caso di impatto a 30, a 25 e così via. Ciò vale soltanto per gli AP. Quindi, gli APCR vengono normalizzati a 2 gradi, mentre gli HIT, gli HE e gli HASH non vengono normalizzati. Terza eccezione, il cosiddetto overmatching. Se il calibro, occhio, il calibro non la penetrazione di un proiettile AP o APCR, è più di due volte grande dello spessore della corazza, per esempio un colpo da 130 mm che colpisce una corazza da 60, la normalizzazione è aumentata seguendo la seguente formula. Normalizzazione normale per 1,4, per il calibro del proiettile fratto la corazza nel punto di impatto. Il proiettile comunque rimbalzerà se l'angolo è superiore a 70 gradi. Nel caso invece in cui il calibro del proiettile sia di 3 volte maggiore rispetto alla spessore della corazza, si seguirà la regola della normalizzazione descritta sopra, ma il proiettile non rimbalzerà anche ad angoli estremi. Questo per esempio vi fa capire perché è facile penetrare un particolare weak spot nella torretta degli S3 anche ad angoli estremi. Essendo spesso solo 20 mm, il proiettile non rimbalza e viene fortemente normalizzato. Sparando con un cannone da 105 mm, il proiettile verrà normalizzato addirittura a 37 gradi.